Le condizioni difficili di lavoro perché lo stipendio non ti permette di andare avanti con i tempi che sono, però le condizioni di lavoro sono dure come tutti quelli degli altri colleghi che hanno uno stipendio fra virgolette normale. Oggi è successa una disgrazia immensa a un ragazzo che è andato via in fiore degli anni e che non ci sappiamo spiegare qual è la motivazione, il motivo vero di questa scomparsa prematura. Noi siamo addoloratissimi e chiaramente vengono fuori una serie di problematiche che sono non sicuramente legate a questo evento, che è un evento di fortuito rispetto alle condizioni. E a quante eventi sono collegate? Io questo non lo so e aspettiamo le indagini e giustamente diamo spazio alla polizia che sta facendo le indagini e vedremo un pochettino quello che uscirà fuori. Oggi non è un momento di fare ipotesi o di fare qualunque tipo di considerazione. Una considerazione che ha fatto è che è morto un ragazzo che stava solo lavorando e che faceva il proprio dovere onestamente come tanti altri che ogni giorno cercano di correre la propria disponibilità, la propria professionalità e il proprio amore per questa città facendo doverosamente il proprio lavoro. Qual è il lavoro specifico? Mirko nella fattispecie era impiegato per il controllo dei mercati e il controllo delle attività commerciali strade, dei cosiddetti mercati o gli abusivi per strada o i lavoratori, quegli occasionali che fanno la vendita per strada. Sono venuti all'Eone della Cronaca ultimamente per l'ordinanza, per le vie più, via Cavour, via Giuseppe, che sono state inibite a questo tipo di attività. Mirko faceva il controllo di questo tipo di attività ed era uno dei ragazzi come tanti, quindi credo che onestamente svolgeva il suo lavoro e almeno non l'ho mai sentito parlare in questi anni male di lui, anzi. Non risulta che abbia incontrato le difficoltà in corso del suo lavoro? Guardi, difficoltà particolari a me personalmente non mi risultano, però le difficoltà in questo lavoro ci sono. La crisi è dura, le situazioni diventano più dure evidentemente rispetto alla crisi, però da qui a pensare situazioni collegate a questo evento io non azzarderei assolutamente una cosa del genere. Poi lasciamo alle indagini, ripeto, come ho detto prima. Grazie a voi.